di Ari Algares di tutti i miei spanzamenti di Francesco e Masia sapere parlare non è una cosa fea sempre che, alle bellissime parole, vanno a seguire i fatti buon dia e ben trovato a voi, a voi di Marse 2024, a San Lorenzo, a voi ascoltarò di CatalanTV e Facebook a voi mostro bene, alla parola, precisamente, alla fine di quando accade il carriere di Venezia alla parola, all'ex vetreria torritana, fabbrica del Virra Pobre nel 1945 è stata gestita da un gruppo di imprenditori di Sassar la struttura aveva rincomuti dell'aeronautica militare si fabbricavano Ampoglias e altri Ampoglias per la Santa Lucia, per la San Martino ma al 1952-54 non aveva rinnovato la contrata per la struttura e così trova, di prima si guarda la ristruttura ma quando Parish, oramai, è diventata una delle carriere e ora è di proprietà del demanio comunale la compagnia del Terro ama la collaborazione dell'Istituto Musical Giuseppe Verdi i giorni 14 e 15 e 16 di marzo del 2024 presenta la comedia musical Anna Algaris Endosatas Luca Re del Butaglio di Gavi Balero al Teatro Gavi Balero L'Alguer a las horas 20 e 30 a tolsi Nani Branca, Anna Maria Manos, Gianna Mura, Marco Corredo, Tonio Fada, Giulia Corredo, Franceschi Sogio, Maria Domenica Hidau, Giancarlo Urjas, Angelo Cano, Ineazio Padeo, la regia di Nani Branca, la scenografia di Maria Filomena Mura suggerirò Sara Carcangio, Milena Bella direzione musicale Anna Vilardi, Viuri Giulia Peana, Viora Alberto Sania, pianoforte Gioia Peana curiosità di Cirofada Macchiavello è un cognome, era un uomo che aveva l'un navigante e che, dopo la seconda guerra mondiale, aveva creato di vivere all'alguer andava a pescarezza a vendere fil e altre cose che non era facile trovare nelle botigas avevo alti che criava filo bianco, filo nero i minnons li posavano a fatto e li fevano a cantareglia filo bianco, filo nero Macchiavello al cimitero a ciò che aveva un babarrotto vestiva sempre di negra ma il sombrero negra era alti e ben grosso e a ciò feva porra i minnons i patizi i marini non approfittavano per assustà-los quando non volvano rumi e li dìvano sempre rumi, rumi, bimbinello mira che arriva, ma che bello assustavano e se rumivano lo santi del dia San Juan de Deu nasce al 1495 e morì al 1550 alla Spagna era nata in Portugal e voleva viaggiare e lasciare la sua casa va a sorrò la infanteria da Sperratona in Andalusia e fa una vira di penitencia fonda un ospital e una comunità fate bene fratelli aggiornando le prove un incendio distruisce l'ospital ma passando e attraverso le franze riesce a salvare e lo ricoverisce e lo resta in columna partita lezione di grammatica algerese la sua casa a te sempre l'uomo te so siga in posizione tonica siga in posizione atona come per dire gerra casa la e sia tonica potessa rubelta come ver terra pancara con set veo si esatona sa neutralizza e normalmente sa pronuncia a esempre sa scriu pare e sa pronuncia para un altro encara sa pronuncia ancora a nelgerese a caso de atona pronunciara i esempre sa scriu estiu e sa diu istiu edat sa diu edat te sempre l'uomo te so comunitaria siga in posizione tonica atona esempre idea amic la o si estonica potessa rubelta con cor foc pancara amor dos si esatona sa neutralizza in normalmente sa pronuncia u esempre sa scriu bolet e sa diu buret botiga sa diu botiga e son casos on sa mantén senza cambiar a nu con poesia noranta la u te sempre luma te so comunitaria siga in posizione tonica e siga atona esempre dur o fum memoria dell'alimentazione algarese mongias ama raquita frascale ingrediens raquita frascale pomata junivelt aglior al sal pasta de mongias orivel genio de oliva preparazione posavo all'algua bujì per la minestra amo una fulchetta aschicciao la raquita e aggiunio qualche culiera de agua decuitura della minestra in una gracionera posavo un fil de ori l'al la pomata a boscinez l'aglior lo junivelt e aggiunio a rabagna la raquita aschicciara ama scrautotti bè finse ottenere una bagna rosara quinao la minestra quando escuita curaura e condio a marabagna salvio amo un fil de ori cru parola della nostra lingua crao strumenti di ferro per la qual sa potte digi una scrittura che è secreta un altro significato bussi di ferro a punta per ancravar tauras o placas di ferro e c'è di ferro di ferro che si diceva tutta la lì Tu sei un po' che tu c'hai cravo, lo che vuol dire che sei un po' che maco. Si scrive cravo e si pronuncia cravo. Storie marinare dei Gavi del Rio, Paltiwit. Las visitas a las grutas di Netù, fin a 1967, under la construzione della scara del Cabirol, a maschi 64 gradini, se effettuava solamente per via marina. La Proloco del Alguè del 1950, nei dias prefestivos e festivos, ama la collaborazione del Zamarolzi e de Baicas a Dibiras arapesca della Lampara, quando le condizioni marine lo permitivano, nei mesi di giulio-agosto, organizzava escussioni a las grutas, ama patizi grups di turistas locali. In aquel tempo, a Rins, non c'erano alcuni salvici, non c'erano camminamenti all'interno, e l'illuminazione si arriva a attraversare lo patitiliac, ma lucius, lucius, las baicas, baichetas del Pascherolzi della lacuna del Calic. Lo baicu, prima di arrivare a las grutas, a propria dell'illa della funerara posizionava las baichetas per la pesca, non approfittavano. La gruta veniva a illuminare da alcuni giovani, giovani volenterosi, che posizionavano canderas. Un marine amalciu portava cinque e sis falzonas, travalsava l'uliac e lo lasciava a rapatita spragetta. Leggo una bandiera per portare un altro gruppo, e così la visita durava due o tre horas. Desprez della visita se ritornava al polt, per dasbalcar, los turistas e lo comandante, Joan del Río, ripaltiva pel punto della pesca. Al 1955, amazvolse charters italians, inglesos, era aumentare la demanda per la visita a las grutas. E ancora tanto, i gossos a spagnoletas, la francesca, effettuava lo trasport. La prolocco aveva fatto costruire una balca, la balzaruneta, e amassi spalzonas assagurava tambè la presenza de dos custodis, Luigi Arca e Paolino Costantino. Continueremo a napalà. Cistus Algareso de Cirofada. Matareso, a Cirofada c'è stato il miglior perché era un po' di scuola, vivace, però intelligente. A voi, uomini e paesi di famiglia, è orgoglioso di questo che è portato. Ha un sorriso in bocca e la mirata annocente di quando era miglior. Ringraziamo gli ascoltatori di CatalanTV e Facebook. E ricordiamo sempre, parliamo, leggiamo, scriviamo e cantiamo in Algaresa. A vos dè ora. Tira una volta, due giuretas e un liri, avui guio un condens, come gran felicità.